Sei formata in marketing e comunicazione? Sì, ho terminato gli studi cinque anni fa. E ti sei laureata un anno prima con i massimi di voti, vedo. Paolo? Ciao, piacere Paolo! Hai già avuto modo di metterli dei trasmittenti nell'ufficio della ragazza? No, volevo sondare l'ambiente prima. Come ci fai qui? Stai con qualcuno? Quanto ci vorrà per scoprire il segreto? Ancora un po'. Domani visitarò i campi, magari qualche tecnica di coltivazione. Buongiorno Presidente, ne presento Francesca. Presidente? Non abbiamo ancora abbastanza dati. Cosa penso di fare? Domani sera entrerà la relazione. Ehi! Ciao Francesca! Grazie per favore! Vedi Francesca, il segreto del Gullino. Ehm...